ciao sono gialluca sono un insegnante di lingua italiana e facilitatore linguistico con una maturata esperienza nella didattica della lingua italiana a stranieri e in contesti migratori sono certificato in tre università italiane sono in possesso della certificazione cedils certificazione di didattica dell'italiano a stranieri rilasciata dall'università ca foscari di venezia sono esaminatore linguistico per l'università per stranieri di perugia somministratore di teste linguistici per l'università per stranieri di siena sono inoltre somministratore esaminatore per la società dante alighieri che è un ente riconosciuto dal ministero dell'istruzione italiano per la somministrazione di test che la didattica l'insegnamento della lingua italiana a stranieri ho maturato nel corso degli anni svariate esperienze in istituzioni pubbliche e private seguendo i più moderni programmi della glotto didattica della lingua italiana a stranieri sono in grado di operare in tutti i livelli del quadro comune europeo di riferimento studieremo un programma personalizzato per ogni studente vedrai imparare la lingua italiana non sarà difficile e sarà anche divertente quindi arrivederci a presto